25 anni, il nuovo imprenditore agricolo che si riuscita a migare, è da ammirare, mille pecore combatte, si alzano alle 3 del mattino come noi e oggi stiamo buttando il nostro latte, lo capisce che noi non stiamo facendo spettacolo oggi, stiamo piangendo prima di stappare i bidoni, stiamo facendo protesta contro il prezzo del latte, non perché non sappiamo cosa farne del latte, è un peccato, perché quello è il pane di ogni giorno, lo devono capire, pure appena abbiamo portato il latte, lo guardi, lo voglio anche mandare il chimico, l'industriale deve fare gli analisi, se li vuole fare, la manda l'industriale a fare gli analisi alla pena, che ce l'abbiamo piena di latte, nella sito, viva Montelli!